Stamattina a Soveria Manelli si inaugura un centro di aggregazione giovanile. L'importanza di questo centro per una realtà non solo come quelle di Soveria Manelli ma per il Reventino e quale può essere la collaborazione che tra questa realtà può nascere con l'amministrazione regionale? Intanto l'area del Reventino Savuto, lo dico con un grande piacere, è stata scelta dalla Regione Calabria come area pilota per la politica delle aree interne della Calabria. Non era affatto scontato, ci sono anche altre realtà importanti nella Regione Calabria che avrebbero meritato lo stesso riconoscimento. Ma nello scegliere quest'area si è voluto scegliere un'area che può essere di volano per tutta la Calabria. probabilmente altre aree non hanno questo tipo di vocazione. Quindi avremmo dinanzi a noi un periodo estremamente importante, delicato che ci vedrà tutti impegnati per far partire proprio da questa area, quella del Reventino e del Savuto quindi un progetto di rinascita delle politiche nella nostra Regione. E oggi io con l'inaugurazione di questo centro abbiamo di fronte un'amministrazione che è molto attenta ai problemi sociali, quindi ai problemi delle politiche giovanili. e lo è un momento particolare dove discutiamo, un momento in cui discutiamo di sanità nelle aree interne dove discutiamo delle politiche ambientali. Vorrei ricordare che in questa area, anche nei momenti più difficili di emergenza di fiuti questa è un'area dove c'è una grande sensibilità per la tutela dell'ambiente e in questi comuni di quest'area si pratica il servizio in porta a porta, quindi la differenziata una grande sensibilità istituzionale da parte dei comuni, dei sindaci ma anche dei cittadini di questi territori. Così come è di grande attualità il tema della sanità nelle aree interne proprio in questi giorni stiamo discutendo di come mettere nelle condizioni in questo territorio la medicina territoriale anche con progetti che sono già una realtà come l'unità delle cure primarie sul territorio perché noi dobbiamo portare sempre meno gente in ospedale, più gente a curarli sul territorio, a curarli a casa però dobbiamo rilanciare il ruolo dell'ospedale, di questo ospedale per quello che deve fare proprio ieri abbiamo avuto una riunione qui all'ospedale per rinnovarlo da un punto di vista tecnologico metterle nelle condizioni utilizzando le risorse facendo sì che ognuno faccia un piccolo sacrificio di impegno, di lavoro, di professionalità ma che insieme si possa partire per una fase nuova una fase che veda questa Calabria a essere una regione normale grazie 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 grazie